Buongiorno a tutti, piacere di conoscervi, abbiamo un modo magari per conoscerci meglio. Per noi, per me, il mio staff è una nuova avventura, tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene, è molto molto stimolante, è una società, una piazza per me di altissimo livello e noi abbiamo scelto perché sappiamo l'ambizione del presidente, del direttore della piazza, sappiamo un pochettino quali sono le problematiche che abbiamo in questo momento qua, sappiamo i problemi che dobbiamo risolvere nell'immediato, però sono tutti alla nostra portata, quindi noi abbiamo delle idee ben precise su quello che bisogna fare, abbiamo in mente gli obiettivi che dobbiamo raggiungere e quindi ci butteremo capofitto proprio sul lavoro perché sappiamo, noi nella nostra, prima ridevo, quando mi ha detto 400, passa tantine, ci siamo guadagnati sempre tutto sul campo, è quello che vorremmo fare anche in questa occasione, quindi tanto lavoro, tanta applicazione, vorremmo cercare prima possibile di vedere in campo le nostre idee, i nostri principi di gioco, la nostra qualità, noi puntiamo molto sull'organizzazione, sull'operitore di squadra, sulla razionalità di una squadra, punteremo molto sulla qualità dei giocatori perché alla base di qualsiasi risultato c'è da avere dei ragazzi bravi, disponibili, propositivi per poter ottenere risultati e quindi è una bella avventura, una bella avventura di grande entusiasmo, di grande motivazione, come ho detto all'inizio. È chiaro che approfitto di questo momento per ringraziare una piazza che ci ha dato tanto a noi, a me e a mio staff, ci ha dato la possibilità soprattutto di lavorare, di mettere in pratica le nostre idee, ci ha dato quella serenità, quella tranquillità, quel calore che solo Catanzaro poteva dare in quell'occasione e quindi noi siamo rimasti molto molto legati a quella gente e speriamo di poter dare anche a loro le soddisfazioni che magari ci hanno dato quelli di così a noi.